E' ricca di ospiti la quarantesima puntata di Biancorossi News. In studio, oltre all'imitatore Francesco Mazzei e a Marco Davanzo, statistico reduce di una trasferta in Olanda, ci sono Verusca Guerra, tifosa del Varese componente per un breve periodo del Consiglio di Amministrazione del club, e Thomas Fierro, amico di Mauro Milanese. Il direttore sportivo con cui i Biancorossi di Rolando Maran avevano sfiorato la Serie A nella stagione 2011-2012, ora alla Trestina, compare in trasmissione con un video venato di nostalgia dedicato agli amici conosciuti a Varese. Ricordi meravigliosi che sicuramente per una volta tanto mi hanno fatto piangere e non piango spesso, quindi ho veramente tanta nostalgia e ricordo di tante persone, non vorrei neanche non ricordarmi qualcuno, voglio ricordare Papini, team manager mio del Varese di tanti anni, voglio ricordare Dante, quei meravigliosi tagli di prosciutto dopo le partite, Olli, Pippo, compagno di tante avventure, e tanti amici che non ho dimenticato perché poi lavorando con tutto lo staff non voglio dimenticare nessuno. Ciao a tutti amici di Varese, a presto, ciao!